Il tuo marito è in ospedale perché tu hai tentato di evirarlo. Io sono la vittima avvocato, io sono stata tradita e lui quanto gli danno? Lui quanto? Quanto? 180 punti di struttura, Cecilia, sul cazzo! No! Avvocato! Che dici, che dici, scusa! Signor sindaco, colleghi! Che hai? Dice che potrebbe essere legato anche ad un trauma piccolino. Ma che cazzo fai? Forse non ci siamo capiti, io e lei siamo proprio amici, non c'è nulla di... Tu lo sai bene come stanno le cose? Ma qua è un amico! No la gonna, no! Di fronte alzano in basso e mi sento una mignotta. Io ho capito solo una mignotta. Mi raccomando, ti metti la botta, è Cesenasta. Io ho capito Cesenasta, che è Cesenasta? E vuoi tu prendere il qui presente Giovanni e Orlando come tuo legittimo sposo? Sì, certo lo voglio. E allora vedi chiaro marito e moglie? E ripassiamo, eccoci qua, e suona. E poi lo facciamo? Mi hanno messo una placca nel ginocchio sinistro. Provi a passare solo con quella gamba. Provi con l'altra ora. Ganniamo il capitano. Ganniamo l'ortopedico. Smontate il ginocchio come a Big G. Ma non mi venire a dire che hai ritrovato un'amica con la quale farmi bene perché sennò io impazzisco, non ci credo. Ce lo taglio. Avete mai visto un aereo dirottato da un ginocchio? Avete mai visto uno che arriva e minaccia? Ma in alto, sono armato, ho dell'acciaio nel ginocchio. Ma che ragionamento è? Ha finito? No!